ciao a tutti da TheFaceGame qui Tell che vi parla questo un'altra commentata un'altra ancora come sempre con me Tibo e Rinnegan a commentare ricordo che potete seguirci anche su facebook trovate il link nella descrizione del video esatto se ci cliccate magari grazie al numero 10 sono prepotente al numero 10 c'è Bob Lee Swagger questo ha visto Shooter e beh al minimo perché non ha visto lo consigliamo bellissimo film però lui non fa il cecchino non uccide con le armi lui fa fare il lavoro ai pacchi dato che è natale comunque è bravo insieme in tema il pacco dono il pacco dono l'ammazza questo è un dono e anche qua vi arrivi insieme a che ci sia un bel pacco no anche qua mi pare che c'è un bel pacco regalo è seriuk ragazzi tira il car package quello trappolo io comunque regalo così non lo vorrei infatti uno è andato lì adesso guarda il replay su quello lì volevano tutti prendere il regalo ah io voglio il regalo esatto esatto ha detto Natale no no quello che striscia il verme il verme muori adesso e allora muori preda preda al numero 8 c'è over crash guardate qui fa una doppia poi uccido un altro over sclero totale scollelle 118 error praticamente l'ele 96 non ha preso da black open ma nessuno non aveva fuori tre poi scoppia una granata non si fa un cazzo meglio per lui certo al numero 7 aveva il blast shell al numero 7 c'è dottor pac c'è dottor pac tira il pac giusti pac e questo è un pacco c4 ma l'hai fatto apposta ma non so di averlo fatto non so non so di averlo fatto ma a questo punto l'ho fatta fuori guardate qua poi c'è cruel balli in teoria un po' bully balli qua non lo so mira meglio in no scoop che in mirando si vede che lui gioca così si è dimenticato che esiste anche il tasto destro probabilmente funziona bene lui mira meglio così guarda il nostro amico 360 no scoop doppia ma come cazzo ha fatto a prendere tutti e due se sono uno c'è non sono in fila vedi come cazzo fa il cos'è colpo curva guarda quanti soldi cazzo si soldi a manetta sono sotto natale si spendono soldi al numero 4 c'è d'italian loser o questa l'input veramente c'è non so è inconcepibile mai più che faccia una cosa del genere io c'è veramente accetti così la sconfitta no per il lag dico anche qua ti dico che sei una merda anche se non ci sei al numero 3 c'è x tiger no scoop più trovi no nascondila no cazzo che un chilo assurda è tutto qui siete ingenui se avete pensato che era solo il no scoop siete ingenui ingenui cioè io prendo clip di qualità non cagate ma se non te l'ha inviata lui si quindi non è che l'hai presa tu al numero 2 tu l'hai presa sei dove ecco airtape airtape ragazzi che tira il coltrino a cross them up belli questo è un coltrino epico ragazzi è una roba assurda assurda veramente una roba fuori dal norma l'arma preferita di rinnega è bella è bello no adesso non è che fa 18 kg non siete riusciti a contare perché è impossibile è impossibile contare adesso pensiamo della mandria che arriva contate voi io ne ho contati nove spero di aver contato giusto ma poi arrivano sì arrivano altri 3 1 2 3 anche io voglio morire c'è un bullman dietro c'è un bullman dietro che scarica le persone per farci uccidere i codini vabbè se il video non vi è piaciuto cliccate su vi piace continuate a iscrivervi al nostro canale seguiteci su facebook su facebook anche cliccate anche su quel video ciao a tutti ciao ciao